Parliamo di cortometraggi, visto che lei è presidente di giuria quest'anno nella sezione cortometraggi. Non parliamo di quelli che sono in concorso, c'è però un cortometraggio che l'ha corpita particolarmente e di cui ci vuole parlare? Io sono arrivato in questo momento, per cui tutti i cortometraggi che sono in concorso qui ovviamente li dobbiamo ancora vedere. Diciamo che il cortometraggio in generale mi interessa sempre molto perché è un piccolo film, è una sintesi di un film, di una storia. È molto più difficile essere efficaci e memorabili con un cortometraggio che con un film perché il pubblico non ha tempo un'ora e mezza per entrare in una psicologia ma bisogna catturarlo con poche immagini. Per cui quando mi chiedono di fare il giurato, di partecipare a una visione di tanti cortometraggi, sono felice. Ho già buttato un occhio su quelli che ci sono qui, qualcuno l'ho già visto, per cui voglio dire sono cortometraggi che evidentemente girano in Italia in questa stagione. Sono validi, sono molto validi, sono poi i registi che domani affronteranno il lungometraggio. Per quanto riguarda invece la distribuzione, parliamo di cortometraggi ma anche di film indipendenti, di film che con difficoltà arrivano in sala. Pensa che le nuove tecnologie, quindi internet ma anche la distribuzione sugli iPhone, sugli iPad, possano essere una nuova opportunità di distribuzione per film che non hanno questa difficoltà? Ma senz'altro, questo senz'altro. Il problema è di capire cosa ci guadagna l'autore, cioè perché per permettere a questi film di vivere bisogna permettergli di recuperare qualche cosa. Allora diamo un 10 centesimi ogni volta che scarichiamo un film ma riusciamo a dare 10 centesimi a quello che ha fatto il film. Ecco, per cui io sono dell'idea che sarà una grande potenzialità se riuscirà a essere anche remunerativa, che possa ripagare in qualche maniera lo sforzo di un produttore indipendente che attraverso una distribuzione via internet recupera parzialmente le sue spese. Perché se no stiamo parlando di cose che comunque non si svilupperanno mai perché falliranno tutti i produttori che hanno i film che non escono. E allora se la rete diventerà una distribuzione alternativa e in qualche maniera remunerativa, senz'altro sarà una democratizzazione della distribuzione. Non dovremo più dipendere da quei due o tre papaveri che decidono che film escono o da quei proprietari di sale che vogliono mettere solo i blockbuster, ma potremo scegliere noi che film vedere. Stamattina qui c'è stata una conferenza stampa con quattro film piccoli, indipendenti e uno molto importante, però tutti i film che avranno difficoltà distributive. Ecco, se io potessi andare a casa e vedermelo su un grande schermo in alta definizione, perché no? In fondo ormai le tecnologie non ci fanno rimpiangere la sala cinematografica. Grazie. 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 Grazie.